E' deceduto nella notte Donna Gianpietro Fuzzi, parroco emerito di Borgo Panigale. Donna Gianpietro era originario di Gaggio Montano, dove era nato 76 anni fa, ed era sacerdote dalla 1963. Aveva esercitato il ministero sacerdotale nelle parrocchie degli Alemanni, Pieve di Cento e Minervio, per diventare nel 67 parroco di Armarolo e Marmorta. Nel 1979 aveva assunto la guida della parrocchia di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale alla quale aveva recentemente rinunciato per i gravi problemi di salute. E proprio nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Borgo Panigale si terranno le esequie nella giornata di sabato alle ore 10 e 30.